Grazie ancora della presentazione e abbiamo qui con noi Mariella Loturco che ci porta invece un'esperienza partendo dai mestieri di ieri come rivalutare. Anche qui mi è sembrato che c'è stata una grossa enfasi al rinnovamento culturale rispetto ad alcuni mestieri e per pensare al lavoro di domani. Bene, prima di portare avanti un po' la mia riflessione mi vorrei collocare in questo contesto con due battute. La prima battuta è questa, considerato che faccio parte di una regione che strutturalmente ha a che fare con la disoccupazione, devo dire che mi fa piacere che i giovani entrano nel bilancio europeo, ma auspico che i giovani non siano un prodotto finanziario, ma che fondamentalmente siano invece soggetti attivi dello sviluppo economico, sociale e culturale del nostro paese. E quando parlo del nostro paese intendo senz'altro il meridione, ma intendo la nazione, intendo la comunità europea. Ecco perché mi ha richiamato con molta passione questa battuta, un attimo che è stata poco fa portata avanti, una sollecitazione. Nello stesso tempo una seconda provocazione immediata che mi viene, così sentite che faccio parte di una terra calda, vulcanica, va bene? Questo nasce proprio dalla considerazione, si parlava di gelosie, di patrimoni legati al privato, al pubblico, di catalogo. Bellissime parole, no? Però ritengo che siano importanti queste parole nella misura in cui c'è una governance di sistema che crea sinergie e una politica non autorreferenziale o sempre ripiegata su se stessa, ma una politica del bene comune, del bene dei giovani, di cui si parla, di cui senz'altro saranno investite queste risorse finanziarie, ma che forse ancora non si considerano cittadini attivi del nostro territorio. Quindi l'altro auspicio che secondo me è importante a partire proprio da questo luogo in cui si parla di garanzia per i giovani è proprio questo. Parliamo di orientamento ed ora io entro nel vivo un attimo del nostro approccio portato avanti in questa regione calda. non parlerò di strumenti perché ritengo che di strumenti sull'orientamento e di carte se ne sono fatte tante e ritengo che gli strumenti, anche l'ISFOLO ne ha prodotti in questi anni, no? Ma gli strumenti ritengo che siano importanti se si ha una politica chiara dell'orientamento e se si ha un approccio chiaro perché poi gli strumenti si declinano in quelli che sono i progetti. E questa è stata un attimo anche la nostra esperienza, un'esperienza che articolo e racconterò in questi termini. Qual è l'approccio di orientamento che proponiamo, per quale progetto e per quali finalità? Ecco, questi vogliono essere tre passi che ritengo siano importanti, no? Ecco perché non parlo degli strumenti. Gli strumenti, se poi si vogliono andare a vedere, ma sono quelli utilizzati in vari posti che già abbiamo, alcuni sono dell'ISFOL, alcuni sono di altre istituzioni che sono state formalizzate, alcuni sono degli ordini degli psicologi perché hanno a che fare anche con questo settore, no? Ecco perché diventa importante per me oggi evidenziare che cosa? Che l'approccio orientativo assunto nell'accompagnamento dei giovani deve essere quello di un orientamento professionale, considerato come processo eduformativo, che indirizza e guida nel valorizzare il personale patrimonio e nel riconoscere le proprie personali opportunità e quindi gli investimenti professionali. Questo è l'approccio da cui partiamo, un approccio che dà un ruolo psicosocio-pedagogico all'orientamento professionale, un ruolo strategico in quanto individua e propone e tesse insieme alla persona, non fuori dalla persona, perché tante volte gli strumenti non ci favoriscono la consapevolezza di quello che siamo. Tante volte si utilizzano degli strumenti, basta vedere oggi, che dappertutto andiamo a formulare questionari, ma per quali finalità? Per indagini, per numeri? L'orientamento non può avere a che fare con numeri, ma con valorizzazione di risorse umane, di persone. Ecco allora che l'azione orientativa diventa quel ponte operativo esistenziale, indispensabile nell'orientamento, perché permette al soggetto di scoprire chi è lui, di ideare il suo progetto personale di vita e di vivere in un contesto in cui oggettivamente si trova. Ecco, questo un attimo è stato l'approccio che noi abbiamo voluto proporre in una Sicilia che è fondamentalmente ricca e povera nello stesso tempo, perché forse non è mai valorizzata e promossa per quello che è, ma per altre finalità. E in una Sicilia in cui l'artigianato oggi continua ad essere un patrimonio, un patrimonio da valorizzare in cui giovani e patrimonio si incontrano. Ecco allora che il progetto, infatti, intitolato così come hanno richiamato, c'era una volta mestieri di ieri, esperienze di oggi e lavori di domani, ha voluto fare riscoprire a 14 giovani il valore del proprio patrimonio, ma come? Offrendo due opportunità attraverso l'azione di orientamento. A. L'inserimento occupazionale, e ora lo vedremo dai risultati, B. Creare la mentalità dell'occupabilità, che è un'altra cosa rispetto all'occupazione. Infatti il progetto ha coinvolto, e quindi è stato un progetto interprovinciale, quindi ha coinvolto più province della regione Sicilia, più comuni della regione Sicilia, per cui abbiamo dovuto avere a che fare con le amministrazioni non solo regionali, ma anche provinciali e anche comunali. E quindi ha coinvolto la provincia di Enna con la peculiarità del lavoro sul legno, l'intaglio sul legno, l'artigianato sul legno. La provincia di Messina con la Valdenisi e quindi il limone interdonato, e quindi un piccolo paese della Sicilia, Itala. Poi Catania con la lavorazione della pietra lavica e la produzione del pistacchio, con due comuni, Bronte e Catania. Poi la provincia di Siracusa con la realizzazione dei pupi siciliani, e poi Ragusa con due grandi tradizioni, anche dal carattere proprio internazionale. Lo sfilato, proprio su Stoffa, è la lavorazione della pietra modicana. Ecco, un progetto interprovinciale, quindi dicevo un approccio per un progetto. In questo progetto, fondamentalmente già le ho dette prima, si voleva garantire un'offerta formativa a questi giovani, rispondere in maniera concreta all'occupazione dei giovani, e valorizzare il patrimonio territoriale artigianale. I risultati quali sono stati? Il progetto ha offerto un percorso di formazione a questi giovani per 13 mesi, e ha offerto anche delle occupazioni. Infatti, sei dei partecipanti sono stati assunti a tempo indeterminato dalle imprese dove loro hanno fatto la work experience. E questi ragazzi cosa hanno fatto? Con l'investimento delle risorse, favorito dal progetto, l'impegno per la realizzazione delle diverse attività condotte sul territorio, e la visibilità offerta dagli eventi, perché sono stati fatti degli eventi, hanno apportato un nuovo impulso alle imprese, in cui si è realizzata la work experience. Al punto che alcuni di questi giovani, poi sono andati anche alle grandi manifestazioni, avute anche in Francia e a Bruxelles, soprattutto i giovani con la lavorazione del pistacchio e del limone interdonato. mentre siamo andati in Tunisia, i giovani che hanno fatto il corso, per lo sfilato modicano. Perché era un lavoro che fondamentalmente in Tunisia, voi lo sapete, il settore tessile è molto riconosciuto. Quindi per noi questo è stato un valore aggiunto all'esperienza. Ma perché tutto questo? Perché l'esperienza, mentre voi mi direte, gli altri ragazzi cosa hanno fatto? Gli altri ragazzi fondamentalmente sono stati inseriti in altre attività professionali, che sono riusciti a portare avanti, perché alcuni hanno fatto il percorso, voi pensate che i ragazzi che hanno fatto questo progetto erano di tre categorie, universitari e quindi gente laureata, giovani diplomati, questi 14, e alcuni giovani qualificati con i corsi di formazione. Quindi tre categorie totalmente diverse. Allora, però, altri ragazzi sono riusciti ad attivarsi attraverso il percorso, questo è il processo che è stato portato avanti, ma vi risparmio, attraverso la valorizzazione delle abilità trasversali potenziate durante il percorso e quindi abilità trasversali fondamentali da potenziare nei processi di orientamento, sono riusciti ad inserirsi in altre attività lavorative. Perché tutto questo? E mi avvio alla conclusione. Perché riteniamo che la mera acquisizione delle conoscenze, delle competenze tecnico-professionali non è sufficiente a garantire il successo nell'odierno mondo del lavoro complesso e fluido. Oggi è importante l'analisi e la valorizzazione delle risorse personali, perché? Perché le competenze trasversali sono più importanti delle conoscenze tecniche e operative. Perché oggi nel mondo dell'occupabilità è possibile rientrare ed entrarci solo se le competenze trasversali sono state potenziate. Perché altrimenti noi continuiamo a portare avanti una logica che è quella solo delle competenze acquisite che non ci permettono di entrare in un mondo flessibile e in un mondo che cambia. Ecco perché il progetto fondamentalmente è per noi stato significativo pur essendo un progetto, un tassello nella nostra regione. Va bene? Perché? Perché è stato attraversato da un processo di orientamento che come avete visto poco fa ma io l'ho saltato, è stato caratterizzato da una fase orientativa ex ante cioè prima del progetto che partisse una in itinere durante il progetto e una di accompagnamento motivazionale dopo la conclusione del progetto. Perché è importante oggi che il processo di orientamento non sia un intervento ma sia una governance di processi che ha un carattere ben diverso. Ecco allora che concludendo vorrei proprio concludere affermando quanto nella nostra pubblicazione di questo progetto che è stato un progetto finanziato dalla comunità europea. Va bene? Quindi abbiamo partecipato ad un bando e quindi è un progetto finanziato dalla comunità europea ma abbiamo avuto modo in questo progetto proprio di portare avanti quello che è la nostra metodologia il nostro approccio. Vorrei concludere proprio con quanto nella prefazione della pubblicazione del nostro libro abbiamo scritto visto che oggi siamo qui a parlare di garanzia giovani. I giovani ritengo sono l'indiscutibile risorsa per lo sviluppo economico, sociale, culturale e professionale della nostra terra. Tuttavia, affinché questo si possa realizzare è necessario trovare misure di accompagnamento e di sostegno al fine di concretizzare il loro personale progetto professionale di vita spendibile nel mondo del lavoro ma anche suscitante quella che è la capacità di cooperazione e di imprenditorialità giovanile perché le nuove generazioni non sono le generazioni del commercio ma le generazioni dell'innovazione della creatività e dell'originalità e non vorrei che noi la mortificassimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti